La seconda commissione ambiente e territorio sta discutendo la legge regionale che prevede l'istituzione della riserva naturale regionale guidata al lago di Bomba, una riserva che interessa ben sette comuni della provincia di Chieti che cerca non solo di tutelare il territorio ma anche soprattutto di valorizzarlo. Abbiamo iniziato l'iter delle audizioni, appunto oggi è intervenuto in commissione il dirigente del settore parchi e foreste che è il dottor Sabatino Belmaggio ma già la prossima settimana la presidenza della commissione provvederà a convocare per ulteriori audizioni i protagonisti essenziali dell'istituzione della riserva cioè i sindaci appunto dei sette comuni interessati. È una proposta che guarda al territorio ma è soprattutto una proposta che guarda al benessere dell'Abruzzo e al futuro dell'Abruzzo.